La fiction incentrata sulle disavventure amorose della studentessa di medicina Alice Allevi tornerà con gli episodi inediti della seconda stagione a partire dal 25 ottobre. Tutti i fan dell'allieva, la fiction tv in onda su Rai 1 ispirata al personaggio e dai libri nati dalla penna di Alessia Gazzola, posso fare un respiro di sollievo dopo la conclusione delle repliche della prima serie, la fiction tornerà con gli episodi inediti della seconda stagione a partire dal 25 ottobre. Il cast inizialmente i nuovi episodi della fiction erano previsti in onda per aprile 2019. Saranno 12 le puntate che vedranno protagonista Alice Allevi e le sue disavventure amorose. Oltre ai protagonisti interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, rivedremo sul piccolo schermo Dario Aita, Martina Stella, Francesca Agostini, Emanuele Aita, Giorgio Marcis, Giselle Davolodi, Pierpaolo Spollo, Marzia Ubaldi, Gianni Cicola, Michele Di Mauro, Fabrizio Coniglio. Tullio Solendi entra nel cast dell'allieva 2 e sostituisce Ray Lavlock nel ruolo del professor Paul Malconnes, dopo la scomparsa di quest'ultimo prima dell'inizio delle riprese. Punto Latreme Alice Allevi è una studentessa di medicina indecisa sul proprio futuro. Dopo la morte della badante di sua nonna scopre la sua strada alla medicina legale. Frequentando l'istituto di medicina legale si imbatte nel carismatico ed arrogante dottor Claudio Conforti, del quale si infatua e con cui si crea una forte intesa. Ma è anche affascinata dal giovane, sincero e simpatico Arthur, figlio del direttore del suo istituto, mentre è alle prese in amore come nella vita con scelte e situazioni impegnative. Scopri vita, la forisma con la frase scelta da Alessia Gazzola alle anticipazioni la seconda stagione dell'allieva si baserà sui successivi tre romanzi della serie letteraria scritta da Alessia Gazzola Le ossa della principessa, una lunga estate crudele e un po' di follia in primavera. Non sappiamo se la fiction continuerà a seguire la linea temporale e ciò che accade nei libri, come successo con la prima stagione, oppure seguirà un andamento differente.